ben ritrovati di nuovo su review you oggi vi vado a mostrare un altro prodotto sempre riguardante l'abbigliamento da caccia e da pesca si tratta del pullover modello 100 acquistato marca solognac acquistato da decathlon online l'ho pagato pensate 9 euro quindi un prezzo scontato e devo dire che il prodotto che secondo me più mi ha colpito prezzo bassissimo e anche una volta indossato sta veramente bene non stringe non sta largo è molto bello il materiale adesso vado a mostrare come vedete appare di stoffa una stoffa comunque liscia all'esterno vedete la maglia è questa mentre la cosa bella è che all'interno c'è un micro file quindi vi tiene anche caldo due cose in uno ve lo vado a mostrare anche da questo lato morbidissimo poliestere 100 per cento le maniche hanno comunque un minimo di elastico calza molto bene io ho preso comunque una taglia s sono già andato a rimuovere l'etichetta comunque perché mi dà fastidio anche qui la manica con l'elastico cuciture ben fatte e come colletto è un colletto normalissimo non avvi ma comunque sta veramente bene una volta indossato lo acquistato per andare essenzialmente a pescare ma nulla mi vieto ci vieta comunque di usarlo anche per l'attività quotidiana volete andare al lavoro comunque in giro è davvero bello e devo dire anche che sta veramente bene anche per quanto riguarda la parte bassa quindi non è troppo lungo o troppo corto taglia s ottima azzeccatissima se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela vi lascio alla prossima video recensione iscrivetevi al canale e fatemi sapere se vi piace questo prodotto